Già, voi ricorderete, nel 2009 con Tutto in Gioco noi abbiamo avuto la fortuna di incrociare il meglio dell'arte italiana del Novecento in una selezione di 50 pezzi che per tre mesi hanno fatto bella mostra e grandissimo richiamo. Di quella esperienza rimane poi, vedrete, lo chassi dell'allestimento che questa volta invece ospita, poi alla fine quando chiameremo il padrone di casa, chiameremo il presidente della fondazione, ospita un'altra operazione che è consentita da Palazzo Ricci. Palazzo Ricci a mio avviso è in grado di arricchire il suo territorio con grandi percorsi d'arte e di cultura. Oggi vi è una narrazione all'interno del patrimonio di Palazzo Ricci, poi con anche la possibilità che questa collezione ci dà di avere dei rapporti con dei collezionisti privati, che poi ricorderemo vedendo le immagini dei quadri, che consente, ripeto, di fare un viaggio su un tema, su un'asse, su una questione. E qui affronteremo il cuore, se volete, il tema di fondo di questa proposta culturale. Una proposta culturale molto alta, che forse deve ancora di più essere promossa per essere dispiegata, raccontata e capita, che si incentra su un nodo storico, che è un nodo culturale, che è il cosiddetto, fra virgolette, ritorno all'ordine. Tema che ci rimbomba nelle orecchie perché è un tema che non ha perso in un momento così difficile come il nostro, di attualità. Per affrontarlo degnamente noi chiameremo qui un testimone particolarissimo che veste i panni misconosciuti per Macerata, il maceratese e forse anche per Civitanova, del critico d'arte, del grande connoisseur e soprattutto del collezionista. Sto parlando di chi fuori d'Italia è conosciuto in maniera somma, in maniera quasi assiomatica con l'arte italiana di Pierluigi Pizzi. Allora, in queste splendide Ceroli, Ceroli che è un tuo artista, ho visto qualcosa anche a casa tua, che ci vengono offerte da un'azienda che però è anche un'azienda decollezionistica, l'azienda Maurizzi che ha arredato tutto il nostro festival. Perché le ha fatte per il film di un amico, Giuseppe Patroni Griffi. Addio fratello crudele. Grande arredo. Poi tutto acquistato, l'originale da Gianni Agnelli, no? Gianni Agnelli acquistò tutto l'originale. Va bene, adesso parleremo anche di questo. Perché mi sono speso su, diciamo, quell'enfasi di presentazione di Pierluigi Pizzi? Perché se vi recate, avete la opportuna di recarvi all'estero per occasioni d'arte e parlate nel merito e dite la vostra, o non potete, non nascondere la vostra provenienza italiana, sentite ogni tanto, a me è capitato varie volte, a me è capitato al Gran Palermo, a me è capitato all'Uvre de Saint-Tiguerre, dove l'interlocutore francese, soprattutto paricino, ti dice, ah, questo ha la maniera di Pizzi, questo viene fatto come Pizzi. Insomma, Pizzi è ovviamente un emblema sia della critica d'arte che dell'allestimento. A lui, non ci nascondiamo, dobbiamo, forse le mostre più belle che ha avuto Parigi di tutti i tempi, come quella sul 600 italiano del Gran Palè, oppure quelle di Versailles e quant'altro. Naturalmente, di questo vangabondaggio internazionale, poi, De Pizzi è stato, in tempi non sospetti, uno dei protagonisti. Perché il ritorno all'ordine? Perché questa mostra? Perché questo viaggio all'interno della collezione di Palazzo Ricci? Qual è, diciamo, lo scopo, oltre che il piacere di avere l'arte, il piacere di avere un richiamo, di avere un'occasione per i turisti senza precedenti, perché la visita, quello che vedrete, è gratuita, è offerta, e quant'altro. Perché questa mostra è abbastanza paradigmatica con il Festival di Pop Sofia, sull'indagine che, in qualche maniera, il pensiero critico fa sulle manifestazioni della contemporaneità. E l'arte e i quadri, che vedrete, esprimono delle questioni cruciali per lo svolgimento del pensiero moderno, il pensiero contemporaneo. È finita la Prima Guerra Mondiale? Sono finite le avanguardie, nelle trincene, nei lutti, con cui si conclude nel 18 questa ecatombe. Si è esaurita la spinta al nuovo, si è esaurita la spinta rumorosa del futurismo, la fiducia nel progresso, che ha inventato non solo l'automobile, ma anche la mitragliatrice. E c'è un bisogno, dopo il disordine, di ritrovare un ordine. E, attenti bene, la questione che viene posta dall'arte è una questione estremamente filosofica. Perché questo ordine significa qual è la lettura, qual è l'interpretazione che io posso fare del reale, della realtà. E, attraverso la riscoperta dei valori plastici, fra virgolette, una grande rivista dell'epoca, c'è la riscoperta non del verismo, ma del reale. Come dice una grande donna che ha interpretato questa stagione, nel Novecento, la Sarfatti, non debbono essere vere le cose rappresentate, ma debbono essere reali. In effetti, i pittori che avevano scomposto, sezionato le forme, che erano arrivate fino all'astrattismo, che erano arrivate fino a manifestazioni estreme di informale, ritrovano prima con, e lo vedrete in Sant'Agostino, prima con la metafisica e De Chirico, il silenzio, l'assoluto del pensiero, dei suoi quadri, e poi, attraverso tutta questa stagione, negli anni Trenta, riprende mano questa tradizione di fare pittura all'italiana, come l'avevamo fatta nel Rinascimento, come l'avevamo sempre fatta, che è questa stagione del realismo. Ma un realismo che non sarà mai identico alla realtà, tant'è che parliamo, e parleremo poi, di realismo magico, che esprime sentimenti, espressionista, ed altro. Io cercherò di essere breve, però la questione culturale e filosofica c'è tutta, e se la guardiamo dall'alto capiamo che queste domande, questi interrogativi, sono ancora aperti oggi, servono ancora oggi a capire dove va l'arte e dove va quindi la società. Noi per Luigi vedremo insieme questi quadri, ne dovevano essere nove, ne sono otto, perché uno è fermo per un, diciamo, restauro preciso e puntuale, e questi quadri sono al centro di una sfida espositiva che visiteremo, e sono parte della collezione di Palazzo Ricci, e parte di una collezione privata, che ringrazio la famiglia Martarelli, la famiglia di un grande industriale maceratese, per esattezza di Tolentino, Tolentinate, che è appoggiata, che è visitabile, che è assolutamente a vostra disposizione, nella, diciamo, nell'opportunità di entrare e di vedere le stanze di Palazzo Ricci, quindi tutto quello che è in mostra viene da Palazzo Ricci. Essenzialmente il cuore di questa enorme forma di opportunità culturale è questa sequenza. Attenti bene, la vediamo, siamo in pieni anni venti, questo è uno dei tanti paesaggi per Luigi che lui dedica a Cortina. Poi li vediamo, li faccio scorrere così poi, velocemente, sì, uno dietro l'altro. Sì, non so se vogliamo chiudere un attimo la luce per vederle meglio, se puoi tornare indietro. Pensate, tutti questi lavori sono degli anni trenta, quindi il primo dei Pisces, questo degli anni venti, vai pure avanti. Questa splendida natura morta è del ventisette, meravigliosa, quasi metafisica. Un enorme vaso di fiori, ancora, una natura morta, vedete, queste natura morta dove tutto tende verso il nero, cioè tutto ha un tono di grigio superiore alla luminosità. Poi l'ermafrodita, questa serie di ermafroditi, di femminielli che lui dipinge, ce n'è un altro ancora, splendido questo, questo ragazzo in questa posa, da Venere, appoggiato alla stanza, altre natura morte, sempre di più informali, sempre di più cupe, ancora, e questa, chiudiamo con questa, mi pare sia l'ultima, è una natura morta di Palazzolicci. Allora, con questa carellata, entriamo nel merito, veloce, poi ce le gusteremo, però, io credo che sia stato giusto anche, avvicinarci al valore di queste opere. un valore che, attenti, sul piano storico e critico, sono estremamente rappresentative di tutta l'estetica del De Pisis e di tutto il suo viaggio.